Allora, guarda che ci abbiamo sopra la macchina. Il mister bianco-rosso, che si chiama mezzo-rosso. Perché mezzo-rosso e mezzo-bianco, vero? Ciao mister-rosso. Che sei? Più rosso, più bianco. E lei più bianco? Ma io lo chiamo mezzo-rosso. Non lo posso chiamare mezzo-bianco. Insomma, suona male. Ecco, dove vai amore? Gnagno, dai, che non ti faccio nulla. Ti lascio sopra la macchina. Su, andiamo. Bellino, dai, vieni qua amore. Dai, mettiti. Che fai? Mi pisci sulla macchina? Ah sì? Sì? Hai segnato il territorio? Ha detto, è la mia, anche questa. Vai. Bellino di mamma. Ecco. Allora facciamoci il bagnetto. Mezzo-rosso si fa il bagnetto. Dai. Devo scaricare la macchina. Tigre? Dove vai? Che è finita la carne? Eh sì? Ci sono solo croccantini. Dai che ti porto qualcosa. Tigrotto? Vieni qua amore, dai. Su, ti faccio due cucciolate. Tu almeno ci stai. Quell'altro poco. Ogni tanto ci sta solo quando io do da mangiare. Vero? Dai, vado a prendere una scatoletta per questo bel tigre. Bello. Si ha picchiato con i suoi amici. Ha sempre la faccia gonfia. Un occhio è andato e quell'altro è mezzo cieco. È vero? Guarda. Vedi il sinistro è andato. Il destro, più o meno. Dai, vado a prendere la scatoletta. Va bene? Ecco. Inizierò a stare sulla macchina. Vediamo a posto. Il verde di Toscana. Oh. Un uccellino allontanato. Tigre, dove vai? Aspetta. Che fra poco si mangia. Tigrotto? Vieni, fa come ti pare. Vai. Ciao, messo rosso. Vado a prendere la scatoletta. Vado a prendere la scatoletta. L' quitere la scatoletta. Vado a prendere la scatoletta. Vado a prendere la scatoletta. Grazie a tutti